Dopo il soprallogo sulla 2, autostrada del Mediterraneo in provincia di Cosenza, il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Danilo Toninelli, si è diretto verso il porto di Geatauro, dove sull'assenza del sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, ha detto di essere rammaricato. Se non è venuto, come mi dicono, per il fatto della nuova autorità di sistema dello stretto, ripeto, dello stretto, non di Messina, ma dello stretto, che è un vantaggio per Reggio Calabria, è un vantaggio per la Calabria, ci sarà una sede anche a Reggio Calabria, sinceramente non lo capisco, ma non lo capisco a maggior ragione perché la nuova autorità di sistema portuale, o meglio il nuovo sistema giuridico dei porti italiani, riguardante Reggio Calabria, o meglio Gioia Tauro e Messina, sono commissariati entrambi da due anni. Bisognava fare qualcosa sì o no? E lo chiedo principalmente a lui. Io penso che se ce l'avesse di fronte mi risponderebbe sì e noi abbiamo cercato di trovare una soluzione che andasse bene a tutti e che andasse bene soprattutto alla Calabria.